Non parlare a matola, non parlare a matola, già sta parlando a matola, santo sacco non sbaglia, santo sacco non sbaglia, santo sacco il braccio destro del primo ministro non sbaglia, non sbagliare a parlare tu invece, che non è giusto questa cosa, ma male che non ti senta, perché a quest'ora dormi, alle tre si fa il riposino, perché altrimenti lo chiamerei per dire che cosa mi hai detto, non si fanno queste cose.